Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Oggi un classico, spaghetti con le vongole Iniziamo Aglio, filo d'olio extravergine oliva e facciamo soffriggere Aggiungiamo un chilo di vongole E copriamo Dopo circa due minuti le vongole saranno aperte Sfumiamo con del vino bianco E una volta fatto evaporare l'alcol Iniziamo a sgusciare qualche vongola Aggiungiamo un po' di prezzemolo a crudo E il nostro condimento è pronto Mandiamo in cottura gli spaghetti E ancora al dente li aggiungiamo al nostro sughetto E completiamo la cottura per circa due minuti Siamo pronti ad impiattare Un po' di prezzemolo Un filo d'olio extravergine oliva crudo E un po' di pepe Il piatto è pronto Se la videoricetta vi è piaciuta Iscrivetevi al canale E lasciate un mi piace Ciao